Ovviamente all'interno del disco, immancabile, la traccia con Marra che se Santeria 2 fosse un film, quella traccia da Itona è il trailer Eh, sì E quando esce il film però? Non l'abbiamo capito, non c'è scritto Eh, guarda, il film... Come dirti, sono quei film quando Hollywood annuncia Fast and Furious 11, no? Cioè, quello che sappiamo è che c'è E che ovviamente se lo immaginiamo nel 2022 È una... potrebbe essere una realtà Io non ti posso dire niente, sinceramente perché non lo so Ah, ok Però, allora, ti dico, non lo escludo Non lo escludo ma non ti posso confermare che lo includo Ah, ok, no, perché avevo sentito la storia di Marra Fibra, poi boh Ah, guarda, io ho visto questa cosa su internet ma mi ha soccoruto dal pero, non sapevo niente Un po' come scoprire la ragazza che ti tradisce Che storia è? No, vabbè, proprio così mi fa piacere Io poi non sono geloso, quindi No, vabbè, proprio così mi fa piacere